Ben trovati dati G della mobilità domeniche ecologiche. In corso il primo appuntamento dell'anno. Dopo lo stop alla circolazione di questa mattina, il blocco del traffico nella fascia verde ripreso alle 16.30 e terminerà alle 20.30. In tema di qualità dell'aria, ieri 9 centraline su 13 hanno rilevato il superamento delle polveri sottili. I prossimi appuntamenti con le ecodomeniche saranno il 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo. È tutto per questo appuntamento.